e facciamo un'altra ripresa da qua, da dove si vede la parte della cattedrale di qua, che è spettacolo l'abbiamo vista anche dentro, veramente magnifica, merita veramente tanto cioè non sapevo esistesse una cattedrale così bella anche questo piazzale niente male davvero, è molto molto carino il centro di mezzo adesso andiamo a beccare per l'altra chiesa, però non so come si ci arrivi ci andiamo a random intanto, comunque abbiamo come punto di riferimento la cattedrale adesso appena passa la macchina ecco facciamo un'altra ripresa da qua, mamma mia che spettacolo vabbè di qua non so cosa c'è quindi vediamo cosa c'è di qua intanto vogliamo andare laggiù a destra, scusate mi sto impattinando è un saluto dalla bellissima cattedrale di mezzo grazie 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 grazie